Benvenuti su fisioterapierobiera.com, portale di medicina e benessere. Vediamo le diagonali di KABAT per l'arto inferiore. La diagonale di D2 può avere una versione in flessione e una versione in estensione. Allora, si parte per la D2 in flessione. Posizione di partenza è questa, con il piede che ha una flessione plantare, le dita in flessione e inversione. Da questa posizione si chiede al paziente di andare in estensione con le dita, flessione dorsale e inversione della caviglia. Poi bisogna flettere ginocchio e anca, ruotare l'anca verso l'interno, fare un'abduzione e la pelle farà un movimento di rotazione posteriore. Questa è stata la D1 in flessione. Vediamo invece la D1 in estensione, si parte sempre da questa posizione, chiedendo però al paziente di fare movimenti opposti. Quindi bisognerà fare flessione delle dita, flessione plantare della caviglia, movimento di inversione, poi estensione del ginocchio, estensione dell'anca, adduzione, qui andiamo verso l'altra gamba, rotazione esterna della anca. In questo caso la pelle farà un movimento di depressione e rotazione anteriore. Grazie per l'attenzione. Se il video è piaciuto mettete mi piace, condividi, lasciate un commento per qualunque domanda o suggerimento, iscrivetevi al canale per avere gli aggiornamenti sui prossimi video. Grazie.